Ciao a tutti, bentornati al canale, io sono Gerli e oggi siamo qua da Carrefour. Inizierò facendovi vedere questo vestito che all'inizio pensavo che era una canottiera, però no, no, no. Poi dopo ho visto che è un vestito, è un vestito per le feste, guardate la parte di dietro, è vellutata, il velluto è in tendenza, è ritornato e nella pagina web si vede così. Davvero che è un vestito carino, mi piace, mi è piaciuto e guardate le paillettes, è molto molto carino. Poi ho trovato un vestito in velluto, guardate la parte di avanti viene così, tipo come V, anche la parte di dietro, ecco il prezzo. Oh, raga, mi scuso per la voce, però ha avuto l'influenza. E poi c'è questo vestito che io ho pensavo fosse una malia, invece no, un vestito, guardate come viene carino sulle foto che vi sto mettendo adesso. E qua c'è un pantalone tipo palazzo, così, guardate, guardate la foto, carino. Dopo vedendolo così, con le foto si vede bene. Poi c'è questo body così, in questo tessuto, però poi mi ha attirato l'attenzione questa borsa. Guardate che carina, è pesante, gli strass pesano. E questa è una borsa che la puoi portare sia da mano o così a tracolla. Ecco lì le catene dello stesso colore in argento. Vedete che se le mettete dentro e non si vedono, guardiamo bene i dettagli. Io mi sono innamorata di questa borsa. Poi ho notato che c'era anche in nero. Andiamo a vederla. Ecco lì, guardate. Che carina. Cioè, mi sono stupita, si dice. Cioè, che sorpresa, che grata sorpresa qua a Carrefour con queste borse. Bello. Poi ho trovato questo paio di guanti. Guardiamoli lì. Poi sulla pagina web ho visto che c'è questo bordato che è tactile, quindi per lo smartphone. Qua ho trovato questa malea, questo tipo come una felpa così. Molto, molto carina. C'era un altro colore, però c'era una signora, mi sono ritirata per vedere. Questi cerchietti possiamo dare un, diciamo, punto luce al nostro outfit. Va bene. E qua sto facendo più che altro tempo. E guardiamo queste qua. Guardate. Carina. Qua sto facendo tempo per poter ritornare a vedere i vestiti. Quando se ne sono andate le persone, se ne sono andate le persone, ho trovato questa felpa, tra virgolette. Non una felpa, è un vestito, ragazzi. Vi lo faccio vedere. È carino. Guardate. Secondo me, si vedono le cose, bisogna misurarle. Io quella volta non ho misurato nulla. E guardate questo altro colore, mi è piaciuto. A me è piaciuto. Guardiamo come si vede. Carino. Il tessuto non è morbido, però. Poi ho visto questa malea così. È semplice. Comunque vi la faccio vedere. Se per caso prendete uno di quei pantaloni che vi ho fatto vedere prima. Anche secondo me il tessuto velluto con questo non va bene. Però se nel caso, io comunque ve lo faccio vedere. Non so perché l'ho fatto vedere, perché mi piace. Sembra un soli lingua quello che appena vi ho detto. Guardiamo il dettaglio sul collo, che mi è piaciuto questa forma così. Poi qua, girando, ho trovato questo cappello. Se per caso ti piacciono le paieze, andrai a festeggiare Capodanno fuori per la strada. Guardate, così ti copri. C'è tipo il suo pompò. E mi ha tirato l'attenzione questo qua, che non c'entra niente col video, però mi è piaciuto solo che non è morbido. Qua altri guanti. Vediamo, il dettaglio, così, in argento. Sono semplici, però quel dettaglio lì sono carini, dai. Le cose bisogna, cioè bisogna utilizzare e usare le immaginazioni. Questa giacca mi sa che già l'abbiamo vista, però comunque vi faccio vedere più o meno il look che sta nella pagina web. Il materiale non mi piace, ragazzi. Non lo so. È carina, però non mi piace. Comunque vi la faccio vedere. E qua sono andata nella sessione dove ci sono le calze. Io ce l'ho una, però non con le strass. E sono caldissime, vi le consiglio, ragazzi. E qua, queste erano scontate. Vi dico, ragazzi, che sto pensando in fare i giri con tutti i saldi che troverò. Ditemi sì o no con un like. Ok, questa qua è la stessa qualità di quella di prima. È come se fosse una gomma. Non lo so. Un materiale è diverso, freddo. Poi qua ho trovato questa maglia. Va bene, secondo me una maglia. La foto non l'ho trovata sul web. Se è una maglia o un vestito. E mi affianco molto sul web perché qua non ci sono manichini per vedere, per capire un po'. E guardiamo questa qua con una stella di colore argento su blu. Carino sia un vestito. Può darsi che sia un vestito. Che ne dite voi? E la qualità più o meno. Cioè nel senso di che? Mi spiego. La qualità è che al tacto non è soffice. Poi ho trovato questo che pensavo che erano dei vestiti invece. Non sono vestiti. Sono come male. Però sono carine. Questa qua. Guardiamo bene il dettaglio. E' carino. Tipo canale. Con quelle righe così. E al tatto vediamo un po' così così. Va bene, non è soffice. E poi sono andata nella zona delle borse, visto che mi ero innamorata di quelle due. E ho visto qua. Cioè di quelle due che vi ho fatto vedere all'inizio. Ho visto questo qua che mi è piaciuto moltissimo. È stato amore a prima vista. Se fosse stato un tessuto invece di questo cuoio finto, l'avrei presa. Mi è piaciuta molto molto l'idea di avere questi strass. È piccola, capiente. Penso che sia a tracolla. Però questi strass guardiamola lì. Ecco lì la foto. Come loro ti la... cioè ti fanno la pubblicità. È carina. Qua sto cercando di farvela vedere bene. Ecco lì. se fosse un tessuto tipo come quel... come... non so, un tessuto mi sarebbe piaciuta. Poi l'avrei presa. Poi questa qua in colore argento ti la faccio vedere. Allora il modello non ne... cioè mi piace. Sapete perché? Perché ha tipo due cerniere. E io trovo che così posso come dividere bene le mie cose. Perché io andoso molto le borse piccole e faccio fatica a volte quando ho bisogno di cacciare qualcosa. Qua penso che mi organizzerei meglio, no? Da una parte una cosa, dall'altra un'altra. E così va bene. Poi qua ho visto questo pantalone che stavo vedendo. Il tessuto. Ecco lì. Questo pantalone che ormai tutti i negozi ce l'ha. Se l'anno scorso o gli anni scorsi non li troviamo in giro adesso tutti e quanti. Qua ti faccio vedere più o meno nel dettaglio o più di vicino. E poi ho visto questo... questo body che era uguale a quello che ti ho fatto vedere prima. Però in un altro colore tipo sul nero, sull'argento. Qua lo trovo molto più carino di quello davanti. E così loro ti fanno l'outfit. È carino dai. Mi è piaciuto. Qua mettiamo un po' a posto, perché mi piace mettere a posto. Bisogna avere empatia. Ecco lì. Guardate che carino. Adesso si metto a posto. Questo l'ho registrato più di una settimana fa. Cioè dieci giorni più o meno. Quindi quasi non mi ricordo. Va bene ragazzi, il video finisce così. Io vi mando tanti visitati. Ci vediamo prossimamente ad un prossimo video. Ciao!